Bella a tutti Top Z e benvenuti in questo corto video dove vi spiego quello che accadrà oggi, domani e dopodomani al Milano Games Week. Ho la fortuna di partecipare agli eventi, alcuni eventi del Milano Games Week e sarò presente in stand. In stand del padiglione 16 H01, quello del Creator District. All'interno avremo tanti creator differenti che parteciperanno a più o meno eventi con postazioni per lo streaming, postazioni per gli incontri che si chiamano meet and greet, con palchi dove verranno effettuati degli show e delle presentazioni. Potete trovare comunque tutto su creatordistrict.it per avere la programmazione e ci sarò anche io nel mio piccolo sputo nel mare magnum del Milano Games Week. E ci tengo per l'appunto in questo video, laddove siate interessati e siate all'interno della fiera, di dirvi dove e quando. Allora, sarò per l'appunto nel Creator District nella sezione per incontri, quindi per il meet and greet, dove possiamo salutarci, farci due foto, scambiare quattro chiacchiere dalle venerdì, quindi oggi, dalle 4.10 alle 4.40. Però sarò live, sempre oggi, da mezzogiorno e 45 fino alle 2.15, sempre dal Milano Games Week, sempre nella zona creator district, per fare e vedere assieme la live 3.3 di Genshin Impact. Super attesa, c'è Scaramucci, c'è l'italiano, c'è il gioco di carte e quindi spero vivamente che siate in tanti su Twitch e non solo, anche per l'appunto lì nella zona e nello stand. Sappiate che appena termino, comunque, avremo modo di incontrarci, ci dirigeremo probabilmente nello stand anche poi dedicato a Genshin Impact, dove incontrarci e parlarne. Diamoci un po' un piccolo rendezvous, comunque nel caso su Instagram vi dico sempre quali sono i miei spostamenti. Alle 5.00 sarò live proprio dallo stand dedicato di Genshin Impact per un'ora e quindi mi potrete vedere anche lì, armeggiare con i commenti, ormai a caldo, a semifreddo di quello che abbiamo visto nella 3.3, quindi mi avrete sia su Twitch sia lì. E quindi poi è finita anche quella, potremo assolutamente parlarne tantissimo assieme. Poi torno correndo allo stand sempre del Creator District e andremo live dalle 6.45 fino alle 21 con la chiusura e lì di nuovo, anche lì faremo probabilmente altro Genshin, parleremo, chiacchiereremo, faremo un po' di casino un po' più rilassati e avremo per l'appunto l'opportunità di concludere la prima giornata, quella di oggi, ovvero venerdì. La seconda giornata invece quella di sabato sarà un po' più rilassante, avremo l'opportunità di avere di nuovo uno spazio dedicato a noi, quindi per incontrarci, fare 4 chiacchiere, sempre nella zona del Creator District nel padiglione 16 alle 11.40 fino alle 12.10, questa mezz'oretta dove abbiamo i divanetti come appunto avevamo anche il venerdì per stare assieme. Inoltre poi andrò live, andrò live dalle 2 alle 3 e andrò live dalle 5 alle 7, quindi sarò lì che correrò, girerò e poi no no raga devo andare live, ho fatto un casino, esagerare, ho voluto strafare. Però ecco comunque nel caso anche lì su Instagram vi dirò sono qui, sto andando lì, se volete salutarmi o vogliamo vederci troveremo sicuramente il modo. La domenica sarò in giro senza alcun tipo di impegno ufficiale la mattina, la pomeriggio no perché chiaramente torno poi, prendo la macchina e me ne torno nella mia ridente Genova visto che non sto più a Milano. E però lì appunto, se mi incontrate, se ci vediamo, comunque anche lì magari vi dico dove sono e lì sono un po' più libero senza avere gli obblighi dello streaming. È un'emozione, un'emozione grande perché comunque sapete l'anno scorso ero dall'altra parte della staccionata, ero tra quelli che organizzava lo stand di Huawei App Gallery nel Games Week. Questa volta invece sono dall'altro lato, non come organizzatore ma come ospite ed è una bella avventura. Fa un po' paura, fa un po' tremare le gambine perché comunque sapete, è una bella sfida, è comunque un ambiente emozionante. Non pensate che comunque quando uno accende una telecamera, anche se lo fa da tanti anni, un robot che va dritto e c'è sempre, soprattutto negli eventi che a me piacciono particolarmente, c'è sempre quell'emozione del dire ma arriverà qualcuno, incontrerò qualcuno, arriva quello che mi mena. Ci sarà un po' tutta questa situazione ma è sempre stato meraviglioso, è sempre stato bello, siete sempre stati gentilissimi ed è sempre stata una bella emozione quella di stare per l'appunto assieme. Ed è poi la parte più bella che ti muove, che ti porta a partecipare a questi tipi di eventi. Un po' perché si fa compagnia, si diverte anche con colleghi, avrò la possibilità di salutare un sacco di amici, probabilmente magari mi vedrete in giro fare bordello dalle parti del MOBA con Cugino Rap, Karen, Kokeshi e dalle altre parti con J-Pop e Manga Yo con Tiamat. Mi vedrete un pochettino saltellare qua e là con qualche altro content creator e dall'altra con voi membri, alcuni nuovi della community e alcuni ormai storici, c'è tutta la cupa, la zerga truppa che arriva e non vedo l'ora anche lì, anche lì di salutarvi. È un bel evento soprattutto per il fatto che ora avendo anche cambiato vita e avendo dedicato quasi il 100% di tutto quello che è il mio lavoro in questa professione, content creator, pur avendo sempre la mia parte un pochettino più seria da gente manager per agenzie freelance, è comunque un bel test, no? Perché dice cavolo la mia prima vera, chiera, seria, importante, grossa con questa risonanza e quindi sono felice, sono veramente veramente felice. Cioè questo è un video a cuore aperto appunto dove magari molti di voi mi vedono sempre molto impostato, molto incazzato, piropairo, oppure molto deciso in quello che dico, diciamo che oggi sono un pochettino più spigliatino e a cuore aperto senza troppe pretese. Mi raccomando se mi vedete salutatemi, se mi vedete chiamatemi, non sono assolutamente uno di quelli che fa il picchio, assolutamente, anzi, anzi. Detto questo io spero che vi divertiate, spero che anche se non avete l'opportunità di venire sarete live, così ci possiamo comunque salutare sempre su Twitch, trovate comunque sempre in descrizione dei video tutti i link che vi fanno al caso vostro per collegarvi sia dalla parte Twitch sia dalla parte Instagram. E che dire, ci vediamo oggi, domani e probabilmente dopo domani mattina. Per quanto riguarda i video, non credo di essere riuscito a programmare tutti i video per questi giorni e penso che il lunedì mi riposerò, quindi scusate se non usciranno tanti in serie, ma vi assicuro che dalla settimana prossima si va giù cattivi, ma veramente cattivi, e vi massacro di guide, tante tante. Vi auguro una buona serata, United State of Zerga. Ciao belli! Sous-titrage ST' 501